Ben ritrovati, seconda edizione del Venice Champions Trophy, un buongiorno da parte di Gaia Brunelli. E Giuseppe Pastore abbiamo iniziato subito col botto, Gaia con i campioni in carica. Subito in campo infatti in questo gruppo A, che comprende Benfica, Paris Saint Germain, Corinthians e Roma, in campo il Benfica contro il Paris Saint Germain con i campioni in carica. I detentori sono infatti tre le teste di serie, uno proprio Benfica inserito nel gruppo A, il secondo è il Crasnodar inserito nel gruppo B e il terzo è il Lugano inserito nel gruppo C. Ma ne parleremo naturalmente più avanti. Intanto andiamo a vedere, per cominciare quella che è la formazione del Paris Saint Germain con il numero uno che è Duglet, Maxime Duglet. Il numero due è Sulpiss, Tio Miote Endis, poi Muomba Olivier, Andrea Vennetilli, c'è un po' di italiano che a me è Verratti ma è comunque Vennetilli. Questo è il Paris Saint Germain, adesso arriveremo anche a darvi la formazione del Benfica. Di sicuro ritroviamo un Gonzalo Moreira che l'anno scorso è stato capocannoniere, miglior giocatore e ha vinto ovviamente la Coppa. Il numero dieci lo vedete in pressing proprio sulla linea difensiva del Paris Saint Germain, un giocatore che vedremo se passato un anno sarà ancora il giocatore migliore di questa stagione come lo fu nella scorsa. C'erano un paio di giocatori molto interessanti l'anno scorso nel Benfica. L'hai detto tu Gonzalo Moreira fu premiato come miglior canoniere del torneo ma di fatto è stato anche il miglior giocatore perché insomma era la stella della squadra che vinse il titolo. E qui lo vediamo in avanti infatti con il numero dieci andare all'uno contro uno contro il suo avversario cerca il pallone al centro e poi lo diventa dei francesi riesce ad allontanare la minaccia. Ma è comunque un Benfica che sembra essere determinato a confermare il ruolo di favorita anche in questa edizione. Ci sono grandissimi talenti in questa squadra che di fatto è la prosecuzione di quella che venne qui l'anno scorso a vincere. Questo torneo di fatto ripresenta la stessa generazione di giocatori poi magari sono cambiati anche profondamente le varie squadre però insomma l'anno di nascita è lo stesso il 2006 barra 2007. Dunque potremo ritrovare anche Diego ricorderete un giocatore che fu tra i più brillanti col numero sei il capitano e leader della squadra portoghese. La mente soprattutto. Per il PSG invece l'esordio l'anno scorso non erano presenti i giocatori francesi quest'anno invece è una delle new entry di questa edizione squadra che insomma al di là dell'importanza del nome a livello professionistico ha uno dei vivai più interessanti e meglio congegnati dell'intero calcio francese dunque il livello assoluto per entrambe le squadre in questo primo match di giornata. Ecco qui anche il portiere del Benfica di cui ricordiamo le doti ricordiamo sicuramente anche per il look no perché questo cappellino alla Benji Price tanto per fare un termine di paragone col fumetto più famoso vabbè in realtà un cartone animato però sicuramente questi bambini lo guardavano. Io lo guardavo. Forse era anche un fumetto non so se in Portogallo. Il sinistro di Olivera è sempre portentoso. Attenzione a Diego qui ottima la spaccata da parte del capitano invece del Paris Saint Germain si tratta di Colela Junior Kylian e anche il capitano. Partito meglio il Benfica in questa fase iniziale che sta comunque trovando una posizione valida nel PSG l'anno scorso ci furono alcune partite un po' sbilanciate nel punteggio bisogna dirlo quest'anno il livello complessivo almeno stando ai nomi che delle squadre che partecipano sembra anche più alto e dunque vedremo partite anche più incerte. Qui attenzione alla soluzione proprio di Gonzalo Moreira dai 20 metri col destro. Anche quest'anno ha provato subito la prudezza da fuori Gonzalo Moreira che nonostante la... Sì qui il portiere del PSG come l'hai visto sembrava valutare bene oppure... Ma no mi è sembrato in traiettoria qui Diego va a rubare un pallone preziosissimo come al solito Diego in mezzo al campo fa un lavoro sporco di grande quantità. Attenzione ancora al Benfica che si libera sulla destra entra in area c'è un tocco dice rimessa dal fondo l'arbitro intanto è entrato Tom Hovr per il PSG al posto del numero 6 con l'Ela. Ricordiamo anche un po' i regolamenti i cambi volanti non c'è un numero massimo di sostituzioni naturalmente anche il caldo e la giovanità dei partecipanti fa sì che sia possibile effettuare i cambi in ogni momento delle partite squadra che dovranno poi giocare anche una seconda partita in giornata dunque non è facile gestare le energie dunque sarà importante anche la gestione dei cambi. Attenzione al PSG che però viene fermato da un'ottima lettura della difesa portoghese. Allora ricomincia proprio il capitano Diego che cerca il pallone dentro per Gonzalo Moreira non trova col sinistro l'assist efficace per il numero 10. Ma pensate quanto si conoscano bene questi bambini che giocano insieme di fatto da almeno due anni e quindi hanno davvero una... Perché già l'anno scorso giocavano a memoria, furbiamoci quest'anno che hanno un anno in più di convivenza. Hanno un'intesa che probabilmente è davvero invidiabile anche da giocatori professionisti che spesso tendono a non conoscersi quando si va in una squadra importante. Loro sono davvero super affiatati e sembra superiore il benfighi a queste battute iniziali almeno per quanto riguarda il palleggio e la personalità in campo. Anche se il Paris Saint Germain adesso va a farci vedere. E adesso gli possiamo anche raccontare com'è in campo il Benfica. Ci date qualche istante naturalmente nel frattempo proprio l'azione del Benfica. Attenzione palla dentro Gonzalo Moreira potrebbe provare col sinistro invece si ferma sull'attacco pulito. Secondo l'arbitro da parte del difensore del Paris Saint Germain che trasforma immediatamente l'azione da difensiva in offensiva. Ancora il tentativo del Paris Saint Germain con il sinistro e il gol da parte del numero tre. E allora avanti il Paris Saint Germain con Olivier Mouamba. Qui vediamo un'azione che comunque è stata condotta bene dalla formazione francese. Di fatto la prima conclusione in porta. Qui Diego, qui il portiere del Benfica un po' sorpreso. La conclusione da parte del numero tre. Tom Ovray. In realtà il biondino che impareremo evidentemente a conoscere anche proprio per la sua capigliatura. Adesso abbiamo anche qualche discrepanza sulle distinte. In ogni caso potrebbe essere Ovray perché il cognome che mi hai detto Gaia forse è più di una etnia diversa senza fare diciamo delle distinzioni. Però insomma sembra più un giocatore di origini africane. Invece Tom Ovray. Molto biondo di carnagione immagino sia lui il numero tre che ha portato in vantaggio. E ha segnato dunque il primo gol di questa edizione. Tom Ovray numero tre. Terzino all'ottavo minuto. Finistro esterno difensivo di questo PSG che però abbiamo visto anche avere facoltà di sganciamento e di conclusione. E così è suo. Il primo gol che a sorpresa porta in vantaggio il Paris Saint Germain contro i campioni in carica. E allora vediamo se le partite saranno come dicevamo più incerte, più combattute, più equilibrate fino alla fine. Ricordiamo che la formula del torneo sono tre gironi da quattro squadre, 12 partecipanti in tutto, 8 vanno in quarte di finale. Il che vuol dire che le prime due di ogni giro più le due migliori terze accendono ai quarti di finale. Poi le squadre eliminate avranno anche un gironcino di consolazione per non... Attenzione al tiro dalla distanza e c'è il fuorigioco però. Con un solo a Moreira era intervenuto dopo l'intervento un po' difettoso del portiere del PSG ma è intervenuto l'arbitro e è annullato. Sì probabilmente più per gioco pericoloso anche se... Non mi sembrava... Non è chiarissimo comunque Ovray. Intanto eravamo in debito mentre prima seguiamo l'azione da parte del Parisiano Germain. Attenzione è grande il dribbling con la suola da parte del numero 9 Lenni Pietre ma anche giocata da parte di Pietre. Con la suola dribblare il portiere del Benfica cioè Miguel Vieira ed è riuscito a mettere in rete. Rivediamolo perché è davvero pazzesco con la suola e poi gola a porta vuota. Niente male qui si vede benissimo il numero davvero da calcetto anche se siamo su un campo un po' più grande da giocata da grande attaccata che specialmente vede i grandi magari in televisione su YouTube e quindi ne viene ispirato a sua volta. Questa è un po' la peculiarità della nuova generazione giocatori che guardano le giocate e le compilation su YouTube e dunque li cercano di imitare. E qui sicuramente il PSG di talento in prima squadra ne ha tanto Lenni Pietre dimostra che ha imparato molto bene la lezione sul Benfica però deve reagire. Ce lo aspettiamo anche tornare in personalità. E tra l'altro appunto eravamo in debito con voi rispetto alle formazioni del Benfica. Allora con il numero uno Vieira, poi con il numero due Martin Ferreira, con il numero tre Guilherme Peixoto, con il numero quattro Gonzalo Oliveira, con il cinque Martin Ribeiro, con il sei Diego Tavares, con il sette Paolo Sosa, con l'otto Leandro Martins, con il nove Olivio Leonardo, con il dieci appunto Gonzalo Moreira e con l'undici André Nobu. Questa è la rosa, diciamo la distinta per quanto riguarda il Benfica, qui Vieira è molto attento nel cross alto da destra da parte del Paris Saint Germain che ha provato con il suo numero dieci Diulis Gomis. Però è lungo qui per Gonzalo Moreira, ha cercato l'asse Diego Gonzalo Moreira, intanto mi corregge appunto la mia stimata collega perché non è da fuorigioco. Ma è un gioco pericoloso, in realtà io non ho visto neanche un contatto tra portiere e attaccante, probabilmente una gamba alta o qualcosa di questo tipo. Sì, braccio alzato dell'arbitro di solito è fuorigioco o è gioco pericoloso, non mi sembra che in questo caso sia previsto il fuorigioco. No, questo è vero. E quindi direi che vado per la seconda ipotesi. Vabbè, non c'è il VAR in questo torneo Venice-Church, potrebbe essere un motivo di sperimentazione, ma in ogni caso non mi sembra il caso di fare polemica alle 9.30 del mattino per una partita di calcio giovanile. In ogni caso 2-0 PSG e siamo già arrivati a metà primo tempo e risultato è sorprendente Gaia. Assolutamente, in realtà sorprendente perché Paris Saint Germain non l'avevamo ancora visto l'anno scorso. Benfica che sicuramente ci ha stupito e forse ci aspettavamo qualcosa in più, anche se c'è da dire che le occasioni le ha avute con Gonzalo Moreira e con il numero 9, Olivio Leonardo. Ora recupera palla però, un ottimo pallone. Ancora il Paris Saint Germain, ancora con Ouvré, poi per il numero 2, Cumandi. E allora mi dicono che era fuori gioco in realtà, perché c'è stato un cambio regolamentare. Però allora non ne ha fischiati due o tre, tra l'altro che secondo me c'erano. Che andiamo a spiegare anche per chi guarda, c'è una linea tratteggiata all'interno dell'area, oltre la quale non si può stare, è molto semplice, anche per i bambini immagino sia semplice osservare questa regola. Ma si trattava di fuori gioco, tant'è che i giocatori del mio figlio non hanno neanche accennato la minima protesta. Gonzalo Moreira mette giù, attenzione. Palla dentro con il tentativo da parte del numero 9, Olivio Leonardo, che si divora di fatto il gol del riapertura di questo match. Andato col ginocchio, non è andato in maniera pulitissima e poi la palla si è impennata. Bello il pallone messo al centro però da Gonzalo Moreira, Leonardo che sembra che fisicamente è quello più sviluppato, quello più grande dei suoi compagni, quindi non è stato elegantissimo. non è stato impeccabile nella conclusione in posto. Intanto escono Martín Ferreira e proprio Gonzalo Moreira, al loro posto entrano con il numero 11 Andrè Novo e con il numero 4 Gonzalo Oliveira. Intanto 2-0 come vedete anche dalla grafica, siamo al tredicesimo minuto, ne mancano 7 alla fine del primo tempo con il Benfica che deve recuperare dal doppio svantaggio. una grande giocata da parte di Pietro per il 2-0, davvero molto bello. Adesso recupera palla ancora il Paris Saint Germain. ancora il Benfica che comunque ti sta trovando davvero un po' adesso fisicamente un po' quasi messo sotto dalla formazione francese. Attenzione a questa azione ancora di Pietro che gli mostra anche il grande abilitario in dribbling a campo aperto. Largo adesso, buono il gioco per Ouvré che però qui viene fermato nel contrasto, non può evitare però la rimessa laterale ancora in favore dei francesi. Gioca bene con un giro palla e un'apertura degli spazi, il Paris Saint Germain adesso un rimpallo favorisce proprio Ouvré che qui si accartoccia un po' con il tiro e allora prova a recuperare questo pallone Andrè Novo, non ci riesce, sarà rimessa laterale ancora per il Paris Saint Germain. Anche come ritmo Gaia, il Paris Saint Germain sembra avere un paio di giri in più rispetto alla Benfica, la velocità della giro palla è notevole della formazione francese, dunque quadra che si candida a questo punto visto che stanno battendo il Benfica come una delle protagoniste di questo torneo. Assolutamente, viste anche le doti del numero 9 si candida a essere, sembra appunto cosa la morire. Tu hai già mandato la nomination. Dopo il gol di Suola con dribbling sul portiere direi che ha già dato, insomma bisogna avere personalità per fare una cosa così, a prescindere dalle capacità di saperlo fare, però dimostra comunque di avere consapevolezza del proprio talento. Anche perché è molto presto, spesso l'orario così troppo anticipato magari intorpidisce anche un po'. I bambini si svegliano prima di te, ti vorrei ricordare. Esatto, infatti questo sicuramente. Il fatto che tu abbia sonno non significa che ce l'abbiano tutti. Magari erano esatto, non hanno dormito anche per l'emozione di questo esordio, quindi sono già prontissimi, vediamo un ritmo davvero alto, una partita comunque di livello molto molto buono e un inizio davvero eccellente per questo torneo che insomma quest'anno abbiamo detto ha un livello più alto rispetto all'edizione precedente, come numero di squadre, come livello qualitativo e a quanto pare questa partita non fa che confermare quello che abbiamo detto. Adesso il Benfica che prova a fare gioco in maniera ragionata alla portoghese facendo girare molto il pallone da una parte all'altra anche andando all'indietro. Guardate il PSG come alza il pressing però in maniera molto organizzata e costringe Vieira a dover poi spazzare in avanti e rischiare di perdere la palla che il Benfica riesce comunque a tenere con la giocata del numero 11 che perde palla a PSG decisamente meglio nella parte centrale del primo tempo non solo per i due gol di vantaggio ma anche per una personalità, per una consapevolezza della propria forza che fa sì che il vantaggio man mano che passano i minuti è sempre più meritato. Adesso è rientrato intanto in campo Gonzalo Moreira che prova a cambiare gioco tornando sulla propria linea difensiva per ricominciare con il pallone però sbagliato, riconquistato da Ouvré. Buono alla sterzata sul pressing da parte di Andrenovo e allora il capitano Colela che riesce a servire bene Gomis attaccato subito alto da numero 9 del Benfica e c'è Olivio Leonardo, si guadagna comunque una rimessa la squadra portoghese adesso con Gonzalo Moreira è lui a cui viene dato il pallone per cercare di risollevare la situazione del Benfica sotto di due gol sbaglia qui Andrenovo, Gonzalo Moreira si va a riprendere questo pallone attenzione, Novo prova a infilarsi in area di rigore perfetto però l'anticipo di Colela che lo segue lo supera in velocità e anche direi più alto di Novo almeno di una spanna qui c'è il fallo tra l'altro di Rafael Fernandes che insomma ha un cognome portoghese ma gioca nel Paris Saint Germain va a chiedere scusa in maniera molto molto sportiva a Gonzalo Moreira esce dal campo Gomis con il numero 4 entra il Hannac ti faccio notare Gaia che Colela come nome di battesimo condivide il nome con un'altra grande promessa del calcio francese è vero, Kylian come Mbappé, ruolo diverso, Mbappé attaccante Kylian Colela difensore e mi sembra anche il leader difensivo di questo PSG non soltanto fisicamente ma anche proprio per personalità anche qui anticipo assolutamente pulito sull'avversario giocatore che mi sembra di un livello notevolissimo sì, decisamente superiore anche nella protezione del pallone nel sapere già e avere già in mente la scelta da fare prima ancora che gli arrivi la palla tra il piede anche in questo caso appena è arrivato il pallone di prima intenzione subito verso il suo portiere molto molto bene davvero il Paris Saint Germain direi che finora ci ha sorpreso questo inizio perché sconoscevamo la forza del Benfica non conoscevamo quella dei francesi la stiamo conoscendo adesso anche qui la giocata era sbagliata ma era molto ambiziosa era molto ben congegnata da Pietra il PSG non va a cercare la facilità l'idea più banale, più scontata ma vanno anche a cercare soluzioni tecniche più complicate qui era un passaggio in profondità comunque da saper fare intanto prima ancora di farlo bisogna pensarlo e comunque vuol dire che questa squadra ha nelle sue corde queste giocate sembra una squadra davvero di grande affidabilità di grande livello ancora Pietra che scarica per Ouvré tiene palla il numero 3 che è autore anche del gol dell'1-0 quello che ha sbloccato la partita poi Pietra con un grandissimo gol di suola nel dribbling su Vieira ha trovato poi a porta vuota il tapin Vicente attenzione il cross è molto molto bello qui Vieira esce malamente sì, è uscita stilisticamente risiedibile di Vieira manca un minuto, poco più a fine del primo tempo Benfica cerca di accelerare i tempi però è da 7-8 minuti che non riesce di fatto a creare problemi alla porta del PSG soltanto quell'occasione calciata alta dal numero 9 qualche minuto fa per il resto Benfica che si è fatto un po' adesso sopraffare dalla superiorità anche fisica del PSG e allora vediamo se entro la fine del primo tempo riesce a cambiare quanto vale il risultato invece no, attenzione perché si invola molto bene qui Colella, poi palla dietro col tentativo da parte di pallonetto ma il portiere prende la palla con le mani fuori dall'area di rigore qui è stato bravissimo Fernandes a provare il tiro dalla distanza Vieira grande assist anche da parte di Colella qui prova ad arrivare nel contrasto Pieter, ottimo Vieira nell'uscita poi però va a colpire o meglio, va a deviare il pallone calciato da Fernandes con le mani allora è punizione dal limite, attenzione e la prima punizione di questo torneo l'anno scorso abbiamo visto pochi gol su punizione vediamo se c'è un giuligno per Nambucano chissà chi era nel PSG le punizioni in quella squadra più... infatti per quello mi è venuto era dell'Ion non so, attualmente sarà Draxler di Maria vediamo un po' di Maria forse Fernandes col destro alto potente ma alta la traiettoria da parte di Raffaele Fernandes allora si chiude qui il primo tempo 2-0 per il Paris Saint Germain noi ci troviamo tra pochissimo per l'inizio del secondo tempo un Benfica che dovrà ritrovarsi che allora dovrà cercare di riaprire questo match avrà 20 minuti per ribaltare la situazione Paris Saint Germain però che ha dimostrato di essere molto molto solido soprattutto in difesa con il proprio capitano Colella che adesso inizia devo dire Gaia che visto che anche il resto del girone vede Roma e Corinthians mi sembra un girone di livello piuttosto alto anche perché la Roma è sempre una squadra di livello altissimo per quanto riguarda il Torrenanile quanto a Corinthians che è un po' un'incognita però provengono dal Brasile direi che un viaggio di questa lunghezza sarà motivato da una squadra di altissimo livello insomma davvero grande combattività già per passare il turno intanto è rimessa laterale per Ouvri la sovrapposizione di Qamdi il biondissimo numero due laterale destro del PSG che qui è andato a sovrapporsi a sinistra al suo compagno abbiamo visto anche come il PSG vada sempre a rischiare a cercare giocate anche non banali non scontate per ragazzi di 10-11 anni parliamo di ragazzi nati nel 2006 o 2007 dunque ancora piccolissimi dal punto di vista fisico e anche tattico ma abbiamo visto come il PSG vada anche a cercare soluzioni tattiche e non banali quindi insomma è una squadra che ha una personalità e una maturità assolutamente sorprendente per l'età che hanno questi ragazzi Duglè che smista il pallone poi Martin Ferreira buono l'aggancio si allunga un po' il pallone poi riesce in qualche modo a riconquistarlo per un attimo ancora Benfica che lotta su questa palla con il numero 7 Paolo Sosa che insomma qualcosa ci ricorda non scusa c'era Sergio Ramos attaccante del Malaga dovevano trovare anche quelle le omonie però qui stanno c'è Paolo Sosa Paolo Sosa sì perde palla però ancora il Benfica qui bravo Martin Ferreira poi recuperarla farla carambolare contro il numero 7 Fernandes del Paris Saint Germain e ha conquistarsi dunque una rimessa laterale con Diego adesso in passato a palla e lui che deve dare ritmo e gioco alla sua squadra Gonzalo Oliveira qui chiede scusa anche lui grande protagonista della scorsa stagione con forza fisica lo vedete sono decisamente più alta rispetto anche agli altri bambini qui Diego subisce il fallo e ricomincia immediatamente attenzione perché Martin Ferreira ha dimostrato di avere anche la conclusione dalla distanza ci prova con il destro attento qui Maxime Duclet intanto nel PSG è entrato anche il numero 4 Naufel e la NAC che adesso agisce nella parte destra del campo tanti cambi abbiamo detto non c'è limiti ai cambi sono giocatori in tutto 12 della squadra francese dunque li vedremo a ruotare nel corso anche di questa delle prossime partite anche Gonzalo Oliveira ha provato la conclusione da fuori lui che insomma la scorsa stagione ha segnato tantissimo dalla distanza col suo sinistro potente e preciso questa volta però viene in qualche modo smorzato da una deviazione quindi diventa semplice la presa da parte di Duclet si ricomincia ancora dal portiere Paris Saint Germain era lucida il tocco per Fernandes poi attenzione perché c'era in agguato Gonzalo Moreira qui non un ottimo aggancio da parte di Pietra che rimane anche giù ma sembrava abbastanza pulito l'intervento qua da parte di Martin Ferreira si un colpo accidentale ricevuto da Pietra qui lo stiamo per rivedere è stato si più che altro è caduto male con la gamba sinistra ma non c'era naturalmente è un problema di faccia si esatto è anche un po' dolorante secondo me c'è stato proprio una sorta di body check un contrasto con la faccia perché ecco qui rivediamo qui c'è l'aggancio di Pietra così così arriva poi ecco con il gomito un volontario su Gonzalo Oliveira fa male sul braccio diciamo che è andato Pietra sul braccio di Gonzalo Oliveira eccolo qui l'idea è una quindicina di chili rispetto al suo avversario è un po' provato il piccolo Pietra che viene vendicato adesso viene anche sostituito viene anche consolato dai suoi tecnici c'è un cambio allora lo sostituisce il numero 12 Kelly Christian Kelly è vero perché poi fanno questi gol con la suola di Braille Portiere fanno dei numeri pazzeschi poi li vedi piangere ti ricordi che sono dei bambini perché sennò fino a quel momento fai fatica anche è stato uno scontro abbastanza anche insomma un po' brutto ecco non c'è nulla di grave per fortuna però insomma è un per un bambino è stata una una cosa abbastanza turbante essere insomma finire subire un danno al volto un colpo al viso insomma abbastanza fastidioso per tutti un bambino comunque può accusare io volevo farti notare una cosa mentre vediamo che c'è un calcio di rigore per il Benfica allora mi taccio e ti cedo la parola perché è stato conquistato dal solito Gonzalo Moreira che qui è andato a pressare Duclet in un retropassaggio tutt'altro che agevole per il portiere del Paris Saint Germain lo ha anticipato messo giù e allora calcio di rigore dal dischetto il numero 10 va lui Gonzalo Moreira ma Moreira non sbaglia pallone da una parte portiere dall'altra allora riapre la partita al sesto del secondo tempo Gonzalo Moreira che segna dunque il suo primo gol in questo torneo su rigore ma insomma che si è conquistato rigore peraltro perfetto calciato alla Gonzalo Moreira volevo dirti Gaia il Benfica ha cambiato completamente atteggiamento aggressivissima la squadra portoghese in questo ovvio di secondo tempo più volte sono andati fino al portiere a pressare è un atteggiamento chiaramente molto dispendioso che però è obbligatorio visto il punteggio la situazione di punteggio e ci dice qualcosa anche sulla personalità e sul temperamento di questi ragazzi che insomma non ci stanno a cominciare con uno sconfitto è un torneo che li vede da campioni in carica e alla fine il gol è arrivato e direi anche meritato per quello che stanno producendo in questo ovvio di secondo tempo e allora attenzione ancora il Benfica che ora ci crede ancora Gonzalo Moreira ha subito il pallone largo Martín Ferreira dellì potrebbe anche calciare poi Diego Diego aria di rigore c'è una spinta ma regolare secondo l'arbitro qui fisicamente il Paris Saint Germain ha fatto valere le proprie doti attenzione alla ripartenza un rimpallo è stato molto bravo qui Gonzalo Oliveira a intervenire in anticipo su questo pallone guardate Diego tutto di suola e poi in aria c'è però il contrasto regolare era stato intanto Gomis a fare quella lunga azione contropiede del PSG qualche istante fa una cavalcata di 30-40 metri poi ha perso il rimpallo PSG che naturalmente ha le sue corde attaccanti molto veloci fisicamente molto temibili e anche quelli che sono entrati in questo secondo tempo sembrano all'altezza di guardia del primo tempo qui prova ad andare via Martin Ferreira viene fermato però dalla spaccata di Ilhanac ancora Gonzalo Moreira non va via ancora numero 4 che è attento su di lui va in copertura rimessa laterale ora cambia gioco Martin Ferreira attenzione perché qui Gonzalo Oliveira con la traversa colpita ancora col sinistro e c'è fuori gioco da parte di Gonzalo Moreira ma l'abbiamo detto insomma che Gonzalo Oliveira può sicuramente fare la differenza col suo sinistro potente qui rimane fermo immobile Duclea a guardare ci butta anche una preghierina nella speranza che il pallone non entri sì qui rispetto al primo ecco non abbiamo molti dubbi che fosse piazzamento speranza semplice che la pallone non entrasse qui questa è un'azione simile a quella dell'anno scorso Benfica libera spazio per il sinistro del suo numero 4 che sa fare male anche da distanze molto lunghe insomma attenzione ancora e l'annac area di rigore potrebbe calciare col sinistro Vieira in due tempi poi spazza il pallone Martin Ferreira attenzione però ancora a Colella che qui sbaglia nel dribbling su Martin Ferreira recupera comunque palla il Paris Saint Germain e l'annac se l'allunga e c'è su di lui la chiusura da parte di Paolo Sosa la partita è molto bella è giocata molto bene anche nel secondo tempo è cresciuto il Benfica il Peje non è comunque arretrato è un inizio davvero di livello eccellente non mi stupirei se fossero queste due tra le prime quattro del torneo attenzione a Diego però perché se ne va in velocità c'è Gonzalo Moreira dall'altra parte Diego sceglie per il tiro in porta sul primo palo perfetta la copertura di Duglet che non si lascia sorprendere dal sinistro dell'ottimo Diego attenzione ancora però al Benfica con il pallone calciato nel re di rigore qui Duglet forse non si è fidato della presa rivediamo però la bellissima azione da parte di Diego che in spaccata riesce anche a calciare con una certa potenza una certa precisione bravissimo Duglet in tuffo calcio d'angolo Benfica che è ancora in partita mancano 11 minuti Pioventale recupero 2-1 Paris Saint-Germain ma attenzione palla dentro verso Martin Ferreira gran colpitore di testa e questo naturalmente lo diciamo in base alla scorsa stagione con il tentativo sotto porta e il gol del 2-2 che arriva dopo la bella azione da parte di Gonzalo Moreira il gol è di Leandro Martins il numero 8 segna il pareggio ecco qui pareggio meritato del Benfica che stava quasi assediando adesso la porta del PSG e alla fine arriva la qualità di questa squadra che ne ha anche dalla panchina stanno per entrare due nuovi giocatori con il numero 5 Martin Ribeiro con il numero 11 Andre Novo che ancora non è entrato mentre Ribeiro si però secondo tempo quasi a senso unico il PSG ha giocato bene il primo tempo adesso paga un po' la senza anche di Pietro che è tornato lo vediamo con il numero 9 avrà bisogno di lui il PSG per ridare Grattacapi alla difesa del Benfica alla fine basta che ne manchi uno o due giocatori che spiccano sugli altri e una squadra di questo livello cala un po' come pericolosità e come peso sul campo rispetto all'avversario adesso vediamo se Pietro che mi sembra completamente ristabilito tornerà a fare paura al Benfica che per la seconda è molto meglio rispetto al primo attenzione al pallone gestito ancora dal Benfica con Martin Ribeiro che prova a calciare quindi sembrava un po' al di là ma non va superata una riga il discorso è come la palla a nuoto c'è una linea che ha tipo 5-6 metri credo anche un po' o meno dalla porta e non bisogna essere al di là anche perché è un concetto un po' complicato il fuorigioco quello professionistico per questi bambini si preferisce semplificare le cose giustamente attenzione a Pietro col sinistro calcia debolmente però verso la porta di Miguel Vieira c'è ancora un ritmo molto alto siamo a 31 minuti con un caldo già interessante ma il ritmo è salito è cresciuto molto di più rispetto al primo tempo e qui si lamenta Diego prima con Ribeiro perché ha la palla sul piede poi invece c'è l'applauso del compagno un attimo di stizza ma poi subito ricomposta la squadra del Benfica che come detto ha dimostrato soprattutto grandi doti di compattezza di squadra ma anche ovviamente qui c'è un brutto intervento però da parte di Martins e attenzione alla ripartenza del Paris Saint Germain Vieira in tuffo e in due tempi intervento pericoloso da parte di Leandro Martins poi si rialza però il giocatore del Paris Saint Germain ricomincia soprattutto il Benfica ancora con Martin Ribeiro potrebbe calciare da lì trova un varco calcia ma è centrale il pallone preda da parte di Maxime Glegl una sera di qua una di là abbiamo visto prima una bellissima parata di Vieira non facile su un tiro molto potente di Gomis qui Ribeiro un destro un po' ripito male da sotto troppo troppo coordinato con la conclusione facile Barata di Glegl attenzione ancora per il rischio il PSG altro retropassaggio da parte di Ovrè non sicuramente limpido in questo caso un po' rischioso alla fine ha chiuso bene la difesa del Paris Saint Germain con Ribeiro però sulla destra mette palla dentro non ci arriva per il colpo di testa in questo caso il numero 9 Olivio Leonardo e allora deve chiudere Gonzalo Oliveira su Pietra sta facendo rifiattare Gonzalo Moreira il Benfica lo vediamo comunque in piedi che prima ha agitato sta per entrare anche Guilerme Pesciotto nel Benfica numero 3 altro cambio di un giocatore che ancora non ha messo il piede in campo per dare minuti a tutti perfetta la chiusura qui da parte di Gonzalo Oliveira perché il pallone sarebbe giunto sui piedi di Pietra sarebbero stati probabilmente dolori per il Benfica Pietra che finora vabbè c'è stata solo una partita ma comunque 4 gol ha segnato un gol più bello e secondo me rimarrà quanto meno quello della giornata adesso vedremo cosa ci capiterà però insomma non è mica facile abbiamo ancora tante partite oggi ne avremo addirittura 12 quindi insomma non mancherà l'attenzione è stato il numero 10 se non ho visto male Gomis a provare la conclusione difficile incrociata partita bella Gaia in ogni caso adesso vogliono vincere ovviamente tutte e due le squadre con Paris Saint Germain che vuole tornare in vantaggio mentre prova a difendere un pallone Andre Novo recuperato dal Paris Saint Germain con Fernandes ottima la chiusura di Martin Ferreira anche lui si è contraddistinto nella scorsa stagione ancora Ferreira vede il movimento da parte di Andre Novo che difende benissimo il pallone lo cede ancora a Ferreira 1-2 in area di rigore il tentativo con il destro e poi la parata da parte di Duglè ma che occasione sprecata al Benfica grandissima azione però con Fernandes Martin Ferreira e poi l'assist di Diego perfetto guardate come guarda il pallone che va verso il proprio compagno calcia male si conferma difensore in questo caso Martin Ferreira decisamente più forte nel colpo di testa sottoporta la cosa più bella di questa azione è però il passaggio di prima di ritorno di Diego quasi no look senza neanche guardare ha una qualità e una visione di gioco questo ragazzo che insomma fa davvero scalpore per un ragazzo di 10-11 anni ora è rientrato in campo Gonzalo Moreira c'è il calcio d'angolo calcio d'angolo no tutto segnalato l'arbitro dice di sì l'assistente dice di no alla fine l'arbitro si fida dell'assistente quindi rimessa dal fondo 5 alla fine 2 a 2 2 a 0 PSG a fine primo tempo rimonta del Benfica che adesso attenzione ruba un altro pallone pericoloso ci riprova Ferreira e sbaglia anche questa volta la parata ocheistica da parte di Di Glema qui insomma diciamo che è più l'errore di Ferreira piuttosto che l'intervento di Di Gle comunque attento però provato a piazzarla neanche tanto male insomma però è stato molto attento Di Gle allargare il gambone e a mettere in angolo mi fica che adesso sta sfiorando ripetutamente e vantaggio c'era tra l'altro un Gonzalo Moreira liberissimo in area di rigore che ha guardato un po' in cagnesco Martin Ferrera perché voleva il pallone in mezzo per poter segnare il gol del possibile vantaggio mancano 4 minuti e 30 più eventuale recupero ma ha creato molto il PSG adesso si gioca solo una porta porta via palla poi Diego torna però ancora una volta suola dribbling pazzesco palla dentro vediamo se questa volta ce la fa e Martin Ferreira segna il gol del vantaggio del Benfica e ci riesce al sedicesimo di questo secondo tempo grandi feste dopo tre occasioni Martin Ferreira non sbaglia e ancora una volta però l'azione straordinaria di Diego suola dribbling assist perfetto e Martin Ferreira fa 3 a 2 meraviglioso Diego qui lo vediamo anche da dietro ha tenuto in scacco da solo un intero centrocampo e ha fornito un altro assist spettacolare grandi feste sulla macchina del Benfica c'è una grande non dico tensione ma comunque si sentiva l'importanza di questa partita il Benfica l'ha ribaltata da 2 a 0 a 3 a 2 con una grande prova di carattere attenzione ancora palla dentro il tentativo di assist al centro c'è però la copertura perfetta da parte della difesa di Paris Saint Germain è crollato però nel secondo tempo attenzione a Pietre ruba palla Pietre vince un rimpallo può andare verso Vieira lo ricorre e lo recupera in maniera perfetta Martin Ferreira e poi Vieira va a chiudere sull'intervento forse falloso da parte di Gomis rimane giù Vieira ma che recupero di Martin Ferreira qui Pietre poteva decisamente poteva involarsi verso la parte di Vieira Martin Ferreira decisivo sia in attacco che in difesa nel giro di due minuti davvero protagonista intanto c'è a terra Vieira non è un colpo al ginocchio quanto secondo me alla caviglia o anche alla tibia un contrasto una contusione molto forte senza particolari danni non mi sembra aver visto grandi danni però insomma è un colpo un contrasto piuttosto duro che necessita fa sì che il portiere del Portoglio del Benfica necessiti di cure adesso veniva incontrato anche il tecnico del Benfica che abbiamo visto prima risultare davvero in maniera quasi da finale di Champions per questo 3 a 2 che il Benfica ha meritato perché ha sofferto nella parte iniziale della partita un atteggiamento molto aggressivo e molto fisico anche del PSG sembrava essere superiore fisicamente la squadra francese poi però la qualità il temperamento e anche l'organizzazione del Benfica hanno contribuito a ribaltare il risultato e adesso ancora i francesi che provano a farsi vedere davanti con Fernandèche che si conquista una rimessa laterale la ceda Gomis direttamente dentro l'area di rigore molto lunga la traiettoria da parte di Gomis riesce ancora Martín Ferreira ad avere la meglio poi alla NAC che prova dalla distanza si tuffa qui via Ira ma il pallone comunque finisce alto sopra la traversa nessun problema si ricomincia dall'autore del gol che fin qui sta decidendo questo match il gol del 3-2 Martín Ferreira poi l'ottimo spunto ancora da parte del Benfica è brutto qui interviene l'arbitro e poi c'è anche un piccolo sgambetto magari da terra è la MAC che è stato piuttosto energico diciamo così su Pesciotto un intervento da dietro che insomma in altri contesti più professionistici sarebbe stato pulito anche col cartellino ti faccio contare Gaia come però il PSG dopo il gol subito è tornato ad attaccare non è una squadra che ha ceduto fisicamente anzi mentalmente è rimasta attaccata questa partita e cerca il pareggio è una partita tra due squadre che rivedremo secondo me adesso non ce ne vogliono Roma e Corinthians però potremmo rivedere anche più avanti nel torneo in realtà insomma il Benfica l'avevamo conosciuto nella scorsa edizione di questo torneo e quindi sapevamo insomma della qualità di questa squadra però c'è da dire che insomma ora abbiamo visto anche il Paris Saint Germain in attesa di vedere anche con Inzianse Roma che tra l'altro seguiranno proprio le 9.50 quindi tra qualche minuto adesso finirà tra poco la partita mancano 20-15 secondi in realtà c'è il possesso palla per Martin Ferreira poi in qualche modo Peixoto riesce a intervenire sul tocco di Elannac poi ancora Martin Ferreira riesce a servire Gonzalo Moreira va all'uno contro uno Culela lo ferma e arriva il triplice fischio